Signor bella faccia a rapporto Doppia spada di diamante per bella faccia Buongiorno signor bella faccia come sta tutto bene? Buongiorno buon salve ecco Grazie per il regalo grazie Lei tutto bene? Tutto bene tutto bene ma lei sa cosa dovremmo fare oggi? L'uccidilo youtuber No 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 è minecraft ma dobbiamo indovinare gli youtuber di minecraft Di minecraft di minecraft Ah ma io sono un zedio in questo gioco Ah è vero che io con te ho sempre combattuto Ma sai perché lo riportiamo? Perché tanti mi hanno chiesto di rifare un indovinare gli youtuber E quindi oggi voglio tantissimi mi piace per il ritorno Ma io ne voglio almeno 20.000 Uuuuh 20.000 Alla prima ora Ma per la faccia ma se faccio 20.000 dopo 3 giorni è tanto Eh non mi importa noi lo vogliamo Ok Lei è in creativa signor bella faccia Le do esattamente 3 secondi per mettersi in survival Un attimo Dai vada vada bella cheater lo chiameremo Bella game mode Non è vero Non lo stavo citando Ah va bene va bene Allora signor bella faccia Facciamo così Io le direi pensi lei allo youtuber Che io ne faccio subito 3 domandine Va bene Se vuoi perdere subito Allora L'hai scelto il tuo amico youtuber Ho scelto l'amica youtuber Ok ragazzi Come notate appunto da questa parte del tabellone rosso Ci sono tantissimi youtuber E noi abbiamo 3 domande Da fare al nostro amico bella faccia Per indovinare Sei pronto? Oh ma quanto è bello questo qui Ti piace eh? Eh secondo me questo qua è proprio quello con la skin più brutta Lo sai? Dai cominciamo Allora vado 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 Allora il tuo amico youtuber che hai scelto signor bella faccia Ha un milione di iscritti Ha più di un milione di iscritti? No a meno di un milione di iscritti Ma bella faccia Bella faccia ne ha di più di meno di un milione No io ho 3 milioni Ah vabbè allora guarda Ti lascerò comunque su Poi questo qua è Sbrizer Quindi lo togliamo eh Ne togliamo un bel po' sai cara bella faccia Hai le tue domandine che riesci a indovinare subito Eh no subito no Però diciamo che ho delle domandine belle indirizzate Quindi diciamo che me la cavo nell'indovina lo youtuber signor bella faccia eh Quindi ne ho tolti ben 12 con una domanda Non ci credo, non ci credo Bella faccia Allora, guarda, voglio osservare qua davanti I nostri amici E la prossima domanda è Indossa un cappello Il nostro amico youtuber Eh sì, indossa un cappello Bella faccia Bella faccia Chi hai scelto? Allora, vediamo 1, 2, 3, Emerald lo contiamo No, io non sto parlando in inglese Venga qua, signor bella face, venga giù Ho l'ultima domanda Infatti è difficile perché ce ne sono 4 Vero, vero, vero Scegli bene Devo analizzare le loro skin per capire appunto Se c'è qualcosa che li caratterizza Tutti quanti Allora, ti faccio Una domanda, campione Nella skin, nella testa dei nostri amici Qua davanti Si vede la bocca Sì Bella faccia Bella faccia Rimaniamo solo io e Emerald Bella faccia Hai scelto me Non ci credo Ho vinto, non ci credo Aspetta, ho azzeccato? Sì Bella faccia Bella faccia Mi muterò, caro campione Perché così non sentirai cosa deciderò Allora No, no, voglio sentire Ascoltami, io sto parlando con i miei amici, signor bella faccia Quindi mi faccia parla di quei mie amici Posso andarmene? Può andare Ok Guardate che mi dà fastidio ragazzi Io tra queste persone scelgo Scelgo fere Scelgo fere Vediamo se non zecca fere Campione Allora Mi stavi guardando qua Stavo guardando un po' Lo stavo guardando E non è quello che si muove davanti a me Vada Vediamo La youtuber è molto intelligente Sì, è molto intelligente Allora tu fanno questo Allora Vai Allora, ci sono le domande stupide che fai te Ah, grazie Sì, certo Le domande stupide Sì Allora Vai, vai, vai Siccome non voglio essere come te Non dirò A un milione di iscritti Sì Allora, qualcosa con gli occhi Voglio dire Ok Andiamo A due occhi A due occhi Allora Silenzio Fammi pensare Ah, sì, sì Vado, vado Agli occhi Scuri Ecco, scuri Allora Definiscimi scuri Tipo Scuri, neri o marroni Sì, agli occhi scuri Tipo guarda Fere Ok Fere ha Scuri Te, te, è blu Non sono Allora Facciamo che Una domanda del cavolo Una domanda del cavolo Allora Bella faccia Neri No, non ce ne ha neri No, no Non sono neri Non sono neri Non sono neri Non sono neri Se vuoi ti do una mano A sgonfiare i palloni qua Lui togliamo Togliamo Stefano togliamo Poi abbiamo Lion Poi abbiamo Vediamo 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 Sono neri Emerald Sono neri Sono marroncini Però dai Te lo tolgo Dai Te lo tolgo Allora Anche qua Ne abbiamo Un altro Marroncini Ma Tentiamo Teniamolo Venga Teniamolo Venga 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 Aspetta Aspetta Vediamo Vediamo Ah Senso Togliamo Senso Vada 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 Togliamo Vabbè Ne tolti Otto Cioè C'è di buono Questo Fammi pensare Allora Ah perché pensi Tanto Giusto Giusto Sì Giusto Ai ai No 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 Me lo faccio Allora Sì Mi dico Si Si Allora Mi vuoi deconcentrare No 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 Assolutamente Io non la voglio deconcentrare Potrei farti una domanda Molto cattiva Sui capelli Vediamo Ne vedo Allora Hai capelli marroni Non hai capelli marroni No 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 Quindi Viglia 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 Togliamo anche Surry Che noia Ah mi dispiace Signor Mark Ti calpesto io Guarda che mi calpesto bene Vabbè Allora Te ne sono rimasti sei E ho ancora una domanda a disposizione Bella faccia Vediamo Vada Allora Allora Questa è bella Vada Sì Questa è bella Questa è bella Questa è bella Forse No Non la faccio Non la faccio Allora Vediamo Non è facile No 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 Non è mai stato facile L'indovimento youtuber Sono tutti youtuber Con sopra un milione Tranne mi sembra Tranne Matteo Fire Ok Allora Vediamo Vediamo Ma tu non eri mica Quella domanda Che non faceva Il milione Di iscritti Allora Potrei scegliere Un accessorio Lo youtuber in questione Sì Ha il colore rosso Nella skin Allora Ma per rosso Intendi anche Te sfumature Tipo Guarda Matteo Che ha Allora Gabby Gabby fu il rosso Matteo è rosso Rosino E anche Ferre è rosso Allora Facciamo di sì Dai Rosso Sarebbe stato meglio In realtà Che non l'avesse Perché così Tavi solo due Cavolo Aia Bella faccia Vieni qua Bella faccia Vieni qua Allora Ora puoi scegliere Qual è lo youtuber In questione Eh difficile però Mi devi dare un aiuto Ne hai tre Come devi dare un aiuto T'ho risposto a tre cose Allora Vada 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 Secondo me Gabby Hai scelto Ferre No Ho scelto Ferre Allora Bella faccia Venga qua Venga qua Se vuoi Tu puoi scegliere L'ultimo youtuber No Anche io ho una spada In diamante Bella face Allora Posso scegliere Tu scegli l'ultimo youtuber Ti faccio tre domande Se c'è zecco vinco Se sbaglio pareggiamo A una condizione Dica Non si fanno più le domande di prima Va bene Va bene Hai scelto No un attimo Un attimo Dai su forza 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 Allora Ho scelto Ho scelto Ho scelto Ok Allora parto io con la prima domanda Allora L'ultimo youtuber che hai scelto No Lo youtuber che hai scelto Fa parte di questa Seconda linea No è vero La domanda stupidissima Eh Questa riga Questa qua Questa qua con Stef De Mark Non fa parte di questa riga Va bene Non fa parte di questa Allora Ti faccio solo domande così Guarda Ti faccio solo domande Guarda Allora ti chiedo Se lo youtuber che hai scelto Fa parte di questa linea qua Dai Questa qua Questa qua Dai No Non male Fa parte di questa Sì Dai però Lo youtuber Lo è qui Oh Beh la faccio Ti metto di non fare domande Come quelle di prima Io sto cambiando Eh Dai Ho cambiato mood Ti dillo che vuoi vincere Qua si gioca per vincere Non per partecipare No non puoi Vieni Vieni Allora Signor me la faccia Mi sono rimasto Se spi giochi Lorenzi Stef Venga qua Venga qua Venga qua Allora Le chiedo Se lo youtuber In questione Ha gli occhi Neri 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 Vediamo Neri Neri L'unico che non gli ha neri Esatto È Vegas Ah lo togliamo Quindi mi rimangono Lorenzi Stai Espi Attenzione Rullo di tamburi Hai scelto Espi giochi Io me ne voglio Aaaaa Io non ci posso credere Ragazzi 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 Abbiamo un vincitore Dell'indovino Youtuber di TheMark Che appunto È TheMark No ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Sentite la voce Di bella faccia Che è uscito dal server Ma è sconfitto Mi raccomando Se volete un altro video Ragazzi Dell'indovino Ditemelo In commenti Vamo superare i 20.000 Mi piace Perché se no Bella faccia Che non fa più video Con me E noi Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Da bella faccia Di mare Che tu scelite Uno dei video Qua davanti E ciao